bentornati in cicli ferrara race oggi vi mostro 5 monopattini metteremo a confronto 5 fra i migliori monopattini oggi in commercio e andremo a snocciolare e a guardare da vicino i particolari come è composto un monopattino si partirà da una fascia delle 700 euro fino a 1200 5 vediamo cosa riusciamo a presentare il primo che voglio farvi vedere è il ducati il pro 2 a seguire monteremo l'apriglia sr2 nuovo arrivo il tuareg sempre dell'apriglia per poi passare al jeep urban e l'ambolini incominciamo con il pro 2 ducati questa è la confezione buona con delle chiusure fatte per bene incominciamo ad aprirlo a porta chiavi diciamo che è molto semplice il montaggio vediamo se mi riesco a far vedere bene vogliamo la protezione al manubrio occhio ai fili cosa non dobbiamo mai fare accenderlo come esce da un cartone questa è una cosa che non bisogna fare chiudiamo apriamo alziamo la serratura e apriamo e abbassiamo più o meno ok 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 Grazie. Nel cartone c'è carica batterie, opuscolo, non c'è altro. Vediamo se nel borsello ci sono i perni per fissare il manubrio. Ci sono le chiavi ma non i perni. Eccolo. Ho trovato i perni, erano in una busta nel cartone. Ok. Questi sono i perni che andranno a bloccare il manubrio. Insieme c'è la copertura anteriore sotto al manubrio e il gancio di chiusura. Andiamo a montarli. Ok. Possiamo usare le sue chiavi che vengono date in dotazione. Occhio perché i quattro perni sono due con testa più piccole e due con testa più grande. Cominciamo ad avvitarlo senza bloccarlo, senza avvitarlo completamente. altrimenti. E' altrimenti. E' altrimenti. A presto. E' altrimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo lo stringiamo, il terzo anteriore, quarto, ed è quello con la testa più grande. Qui davanti. Controlliamo solo più o meno la gomma, se si ha pressione, ma vengono già pronte. Questa è il buon mattino. Mi raccomando, la prima accensione fatela dopo aver terminato la prima carica, accendiamolo. Non facciamolo prima, perché se la batteria è troppo scarica potrebbe andare in protezione e crearci problemi. Quindi, prima carica, accensione. Il montaggio è molto veloce, ci sono solo quattro perni per il fissaggio del manubrio e il monopattino è pronto. Controllate sempre la chiusura, che sia stata chiusa per bene. E adesso andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, il telaio è il magnesio. Il motore è un motore anteriore, da 350 watt. E la batteria è 36 volt per 10 ampere. Le ruote sono tubeless anteriore e posteriore. Doppio freno elettrico anteriore e disco posteriore. Led da 3,5 anteriore e posteriore. Può arrivare a percorrere 40 km di autonomia. Portata massima è 10 kg. La ricarica da 0, però non lo facciamo mai arrivare a 0 la ricarica. A una tacca, quindi a un 10% o 20% di batteria, rimettiamolo a caricare. Non facciamo subire la batteria degli shock per troppa bassa carica. Ci serve per il ciclo vita della batteria. Più riusciamo a trattare bene, tra virgolette, la batteria, più ci durerà nel tempo. Comunque vi lascio il link in descrizione qui sotto. Mi raccomando, se volete continuare a vedere i miei video e altri che andremo a vedere adesso, fra poco, condividete, un bel like e registratevi. Ora andiamo a vedere un attimo più da vicino il monopattino. Allora, abbiamo detto che è un 36 volt, è un 10 ampere, è un 40 km di autonomia. Non è molto malvagio, si presenta molto bene.